Novità, novità dell'ultimo giorno di giugno nel calciomercato, si muove qualcosa anche in casa Roma è praticamente fatta per il turco, l'esterno destro turco che si chiama, ha un nome allora, Mehmet Zeki Selik 5 anni di contratto, 2 milioni a stagione, difensore esterno che sa giocare anche a sinistra ha questa caratteristica Selik, alto 1,80m, ha giocato naturalmente nelle squadre giovanili poi dal 2015 al 2018 ha giocato in alcune squadre turche, nomi impronunciabili per me che già faccio fatica anche a scandire bene le parole in italiano, con tre reti e un centinaio di presenze e poi dal 2018 ad oggi va in Francia al Lilla, 118 gare, 6 reti, in nazionale tutta la trafila nelle nazionali minori quindi poi 32 gare con la Turchia e due reti, come vi ho detto può giocare anche a sinistra insomma si muove qualcosa finalmente nel mercato in entrata della Roma Matic, Selik mi sembrano due buoni giocatori, Matic direi che sta bene fisicamente sarà sicuramente un rinforzo importante, io questo Selik diciamo che non è che lo conosco proprio bene mi è sempre sembrato un giocatore molto solido, nelle sue caratteristiche viene data anche una buona tecnica dovrebbe essere anche un buon crossatore, a me ha sempre dato quando l'ho visto giocare un'impressione soprattutto di solidità tattica, uno che rispetta molto bene le consegne ma comunque diverse persone mi parlano bene di Selik certamente non è arrivato Cafu ragazzi, è chiaro però penso che sia un tassello che rientra perfettamente in quella che è la scacchiera diciamo come posso dire, è una pedina utile al tipo di gioco che fa, che ha sempre fatto Murigno che sapete che è un gioco anche abbastanza difensivo è un gioco redditizio, un gioco redditizio perché tutti fanno quello che devono fare senza mai strafare è un po' questa la filosofia di gioco di Murigno quindi Matic e Selik sono due giocatori che si inseriscono perfettamente in questo discorso manca naturalmente il grande colpo che secondo me arriverà sicuramente nelle prossime settimane vi ricordo che il calciomercato, ve lo ricordo sempre, finisce il 31 agosto inoltre la Roma debutta a Salerno poi c'è Roma-Cremonese che sono due partite diciamo la verità molto abbordabili poi c'è Juve-Roma una partita molto complicata partite che abbiamo abbastanza l'abbonamento anche alla sconfitta e poi c'è Roma-Mondra quindi tra l'altro Mondra che non va sottovalutato perché sarà la grande sorpresa di questo campionato però il Mondra all'Olimpico perde cioè non è che deve venire all'Olimpico e deve perdere quindi abbiamo tre partite su quattro molto alla nostra portata e quindi ho anche il sospetto che tutto sommato visto che il calciomercato chiude il 31 agosto ecco questa chiave di lettura ci potrebbe aiutare forse a capire le tempistiche tutto sommato noi con questa rosa 9 punti su 12 se non 10 li prendiamo in queste quattro partite e c'è tutto il tempo poi in extremis di piazzare qualche altro colpo che sicuramente ci sarà perché la rosa è comunque troppo corta molto vicina a Roma a Frattesi proprio stasera a Rimini si incontreranno le parti per parlare di Frattesi giocatore che non a tutti piace io sinceramente Frattesi l'ho visto giocare nell'Under 21 credo di averlo visto giocare forse anche nell'Under 20 più che nell'Under 21 nell'Under 20 l'ho visto giocare non mi vorrei sbagliare adesso se l'ho visto con l'Under 20 o l'Under 21 mi ha fatto un'impressione, un giocatore dinamico in Nazionale A non mi è piaciuto per niente ne vorrei la verità anche perché è un giocatore che ha un modo di correre un po' tutto suo però quello che mi dà fiducia è che comunque è un giocatore che esce dal vivaio della Roma margini di miglioramento enormi un giocatore che ha tanto da imparare quindi immagino che Frattesi lo conoscano molto bene a Roma prima di prenderlo ci avranno pensato bene non è certamente Frattesi l'uomo sul quale costruire una squadra che deve lottare per le prime posizioni per le prime quattro posizioni è un giocatore che sarà un buon cambio mi auguro con la sua giovane età, 24 anni il tuo dinamismo penso che possa me lo auguro ripeto, se l'hanno preso lo conoscono bene le qualità da qualche parte ci devono essere poi vediamo un po' quindi si sta smuovendo abbastanza qualcosa cominciamo a essere un po' preoccupati perché era molto asfittico il calcio mercato della Roma poi altre novità della giornata di oggi l'anglais che interessava anche la Roma il difensore è passato in prestito secco dal Barcellona al Tottenham quindi sfuma questa possibilità che è un altro giocatore molto idoneo al tipo di gioco di Murigno Lico Giannis passa dal retrocesso Cagliali al Bologna un giocatore che nelle ultime partite ha evidenziato anche delle qualità in zona tiro che io sinceramente non li conoscevo tira delle bordate di sinistro il Bologna devo dire che l'ho visto giocare nell'ultima gara di campionato a Marassi Genoa-Bologna anche se è una partita vinta poi dal Bologna per 1-0 con la rete di Musa Barrov una partita senza importanza però ho visto una squadra molto ben messa in campo ma molto colpito il Bologna squadra assolutamente che tra l'altro è la squadra che ha deciso in realtà il campionato scorso battendo clamorosamente l'Inter al Dallara in quella famosa partita della Papera Tiradu e raga Mijajovic le squadre le sa far giocare hanno qualche lacuna sventagliate da una parte all'altra quando ripartono sono dolori quindi Ligogianni si andrà in forza del Bologna il Napoli ha rinnovato col portiere Meret Alex Meret per 5 anni 50 anni di contratto con lui sicuramente un'ottima soluzione un portiere che deve trovare però maggiore continuità a proposito dei portieri la Fiorentina sarebbe sulle piste di Gollini che vi ricorderete portiere dell'Atalanta un altro portiere quotato alla Juve si comincia a ipotizzare visto che partirà dell'Igta che un po' si è rotto le palle proprio di giocare a Torino si comincia anche a fare il nome di Bremer Gleison Bremer che doveva andare all'Inter ma ora con questo valser di difettori centrali potrebbe rientrare nei piani addirittura della Juve un giocatore sul quale io da tempo metto l'indice anzi mi auguro che giochi anche in nazionale ha un fisico mostruoso Bremer altri italiani che interessano squadre importanti Scamacca che è molto vicino al Paris Saint Germain o Saint Germain come volete dire io dico Germain mentre anche i francesi hanno messo gli occhi anche sul su Milan Scrimiard centrale dell'Inter che è un altro giocatore che interessa molto secondo me a Parigi in quella squadra lì ci starebbe proprio bene perché sapete che il Paris Saint Germain o Germain insomma fare come vai è una squadra molto offensiva che però ha qualche lacuna e quindi giocatori molto solidi in fase difensiva come Scrinia sicuramente possono dare un apporto importante a mezzanotte scade anche diciamo il contratto della coppia Maldini-Massara a Milano quindi c'è molto interesse e anche molta preoccupazione perché dicono se a mezzanotte scade il termine abbiamo perso Maldini-Massara ma state tranquilli che poi se le cose si devono fare come in tutte le cose ci si accorda e ci sono delle deruche magari di qualche giorno comunque io penso che alla fine Maldini-Massara da Milano non si muovono anche perché Maldini è veramente un totem nella storia rossonera e a proposito di Maldini ci sono due o tre squadre su Daniel Maldini che è il figlio di Paolo quindi sono lo Spezia al quale proprio Daniel Maldini aveva segnato nello scottocampionato alla Spezia il Bologna mi pare che ci sia e una terza squadra che è il Sassuolo ci sono queste squadre su Daniel Maldini giocatore che sinceramente non è facile valutare perché l'abbiamo visto in campo poco quando l'abbiamo visto non sempre ha brillato ma soprattutto c'è questa cosa psicologica che non è semplice essere il figlio di Paolo Maldini chiaramente si fa sempre il confronto col padre che anche se giocano i ruoli diversi non è semplice a proposito di Roma dall'altro domani arriva anche il secondo portiere Svilar dal Benfica vediamo un po' io puntavo fortemente su Carnesecchi che secondo me è un portiere fortissimo della Cremonese che ha avuto però un infortunio che pare che interessi alla squadra bianco-celeste di Lotito vedremo come andrà con Carnesecchi che ragazzi è un portiere da leccarsi proprio i baffi proprio una roba c'ha un'esplosività un coraggio una freschezza anche nelle uscite basse secondo me diventerà un grande portiere la Lazio dicevo ha preso forse anche un po' a sorpresa proprio un ex Roma un ex prima della Roma cancellieri che è stata una delle rivelazioni un attaccante abbiamo visto anche debutare nazionale recentemente è stata una delle rivelazioni del Verona che è stato soffiato al Sassuolo tra l'altro ha pagato 7 milioni più bonus è anche un giocatore pensando giovane che naturalmente ha una certa quotazione un giocatore che ha una bella corsa sinceramente è un giocatore che mi è piaciuto un bel ragazzo un bel atleta vedremo e sarebbe anche vicino sempre alla Lazio a Ilick sempre del Verona un fantasista che secondo me in campo deve trovare però la giusta collocazione perché è uno che è molto estroso però l'hanno spostato un po' di ruolo se non me hanno fatto un po' di casino è arrivato anche Lukaku a Milano l'abbiamo visto nelle foto in compagnia anche del presidente Zhang che ha scelto la maglia numero 90 che andrà sulle sue possenti spalle io proprio qualche giorno fa ho letto abbastanza commovente la storia di Lukaku che è un ragazzo che ha avuto un momento di grandissima difficoltà economica con la sua famiglia perché dunque che cosa è successo che il padre ha perso il lavoro mi pare di aver capito e quindi la cosa toccante di tutta sta storia è che lui a un certo punto a casa non ha più potuto vedere le partite di Champions perché non aveva più l'abbonamento diciamo alle partite e che lui che è un grande appassionato di calcio quindi per lui è stata una cosa dura da digerire poi passavano i giorni a un certo punto poteva succedere che veniva staccata la luce e te la passavano male insomma molto male e quindi magari stavi 10-12 giorni senza luce prima prima di riattaccarla poi a un certo punto visto raccontava Lukaku la madre che allungava il latte con l'acqua quando ho visto mia madre che allungava il latte con l'acqua ho toccato con mano la gravità della situazione ho capito che non si poteva più in avanti così e ho promesso a me stesso che avrei tra virgolette salvato la mia famiglia diventando un calciatore mi sono ripromesso di diventare il più forte giocatore belga di sempre io non lo so se ci è riuscito perché per me Kevin De Bruyne è veramente un giocatore molto 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 forte giocatore senza difetti però sicuramente anche la carriera di Lukaku è molto importante e credo di aver raccontato un aneddoto anche drammatico se vogliamo perché erano padre e madre lui e il fratello che sono stati in queste condizioni per diverso tempo ma la vita è fatta così non crediate che sia chissà che cosa di particolare però è un aneddoto che ho voluto raccontare perché per farvi capire che molto spesso chi ha successo non solo nel mondo dello sport ma anche in altri campi esce da situazioni molto complicate quelli che hanno la pancia piena a prescindere che stanno sul divano comodo eccetera eccetera in una casa accogliente calda eccetera che non gli manca niente eccetera hanno meno motivazione e magari si perdono anche un po' per strada quando esci fuori c'era mi ricordo Taribo West lo ricorderete sicuramente il pittoresco giocatore dell'Inter nigeriano si ricordo bene era nigeriano che diceva che nel suo paese si diceva quando hai arato la terra con i denti non hai più paura di niente era un altro che si sentiva investito da Dio nel fatto di essere un calciatore mi ricordo che andò dall'allenatore dell'Inter e gli disse Dio a te stasera mi ha detto che domani devo giocare cose di questo genere ma il ballagatore non lo fece giocare quello titolare quindi anche lui era un altro che usciva fuori da una situazione molto difficile quindi queste situazioni difficili nella vita nello sport ti possono uccidere letteralmente uccidere ma ti possono anche come dicono di Roslavia tutto quello che non ti uccide ti rafforza è una cosa che diceva spesso anche Mihailovic che speriamo che esca anche lui rafforzato dalla dura prova che sta attraversando che sapere che ha avuto dei problemi abbastanza seri di salute anche se sta lottando da part suo l'ex Roma tra l'altro Mihailovic quindi se sopravvivete potete raggiungere risultati importanti seguendo la strada che evidentemente la natura il vostro destino vi ha preparato in qualche modo mi ha colpito leggere che Lukaku si allenava da ragazzo giocando a calcio e con la frustrazione che pensava che quando andava a casa non si poteva vedere la partita della Champions mi ha colpito molto questa cosa cioè un ragazzo che stava in una situazione che forse non se ne rendeva neanche tanto conto che magari non è che ci fosse tanto da mangiare in quella casa il suo pensiero andava a questo fatto è una cosa anche un po' romantica diciamo poi continua l'ottimo mercato del Monza che sarà la sorpresa di questo campionato come ho detto prima che ha preso praticamente quasi ufficialmente Sensi Stefano Sensi dall'Inter in prestito secco e vuole anche il difensore me lo ricordo Marlon che dovrebbe essere brasiliano ha giocato stava giocando nello Shakta di Donets che adesso è una squadra che naturalmente si sarà smembrata visti i fatti drammatici in Ucraina dei quali ormai non parlo neanche più nei miei video perché siamo tutti quanti abbastanza rassegnati a quello che sta succedendo e purtroppo siamo consapevoli che con tutta la buona volontà possiamo fare veramente poco sono purtroppo vicende che passano proprio sopra la nostra testa e il cittadino non può fare molto poco l'unica cosa che potremmo fare è organizzare delle grandi manifestazioni diciamo una volta a settimana in tutte le piazze inizialmente ci sono anche state poi si sono un po' spente non hanno avuto molto successo perché purtroppo ci si rende conto che è un conflitto questo dove diciamo la cultura e la sensibilizzazione possono poco perché ci si trova di fronte a gente che ragiona solo con un linguaggio e che va avanti come un cararmato anche in senso metaforico che non anche molto diciamo che le informazioni sono molto manipolate ognuno dice la sua verità e quindi sinceramente credo che noi cittadini non possiamo fare un cazzo ve lo dico papale papale infatti quando è scoppiata questa guerra io vi ho anche detto che avevo dei dubbi se continuare a parlare di calcio fare video perché è molto pesante il clima però strana facendo ho capito che è una cosa troppo più grande di noi e quindi è giusto continuare a cercare di fare una vita normale perché non possiamo fare niente come cittadini non possiamo fare veramente niente se non continuare a cercare di come si dice anche in sociologia no show must go on cercare di andare avanti anche se sono è un anno questo qua molto il 2022 è veramente molto pesante e sotto molti punti di vista quello che possiamo fare come cittadini lo sto comprendendo sempre di più io penso che Greta Thunberg o Thunberg come si dice abbia dato veramente un segnale che non abbiamo saputo cogliere è tempo che l'uomo si prenda cura di questo cazzo di pianeta che ci è capitato non si può più andare avanti così io sto in una città dove ha piovuto un giorno nelle ultimi due mesi c'è una siccità che fa paura ci sono regioni dove è stato vietato il lavoro nei campi l'acqua diventerà un bene prezioso diventerà un bene prezioso e la colpa è nostra che non sappiamo che non sappiamo gestire quello che ci è stato dato quindi se l'uomo non cambierà completamente politica e questo è qualcosa che non dipende solo da da chi ci governa questo dipende anche da noi nelle piccole cose quotidiane questa è una cosa che dipende da noi io ora vi voglio raccontare un breve aneddoto sono passato dal calciomercato a queste questioni ma come sapete io spazio molto con le mie cose un aneddoto che mi ha molto colpito e credo che bisognerebbe sarebbe stato giusto fare un video e veramente farlo vedere nelle scuole di questa cosa ma per non violare la privacy della persona non me la sono sentita proprio non sarebbe stato giusto ma sarebbe stato molto educativo io sono in un palazzo diciamo sono al quinto piano cioè diciamo questo è un influente però fuori dal palazzo c'è una lunga scalinata cioè una scalinata di 200 scalini diciamo un giorno ho visto un uomo non vedente completamente non vedente proprio che evidentemente conosce molto bene questa zona perché per camminare così solo col bastone dei non vedenti una scalinata di 200 gradini alcuni dei quali sono anche malmessi vuol dire che conosce proprio ogni metro quadro ogni centimetro quadro di questi palazzi un uomo anche di una certa età e non vedeva aveva una una cecità direi totale perché a un certo punto aveva una macchina paccheggiata davanti e non la vedeva solo quando l'ha toccata col bastone ha realizzato che era una macchina e quindi però conosceva evidentemente molto bene è un percorso che avrà fatto tutta la sua vita insomma questo signore aveva con sé le buste della raccolta differenziata quindi la busta dell'umido della plastica del vetro erano due mi pare il bust se non ricordo male quindi con il bastone lui quando è arrivato ai bidoni toccava il bastone in base al rumore che facevano riconosceva se era plastica e addirittura ho visto che quando ha toccato quello della plastica ha avuto un gesto distinta perché stava cercando magari il vetro non lo so allora ritardo ha fatto un gesto come per dire non è questo capite ragazzi cioè tante volte perché è una persona che ha una grandissima coscienza civica una grandissima coscienza cioè immaginate un uomo completamente non vedente al punto da non vedere ripeto una macchina paccheggiata che l'ha toccata col bastone altrimenti non l'avrebbe vista con due buste che esce di casa fa una scalinata di 200 gradini arriva naturalmente con l'udito quando sentiva arrivare qualche macchina si fermava aspettava che passasse ovviamente ma quello era il minimo sapete che i non vedenti sviluppano molto l'udito con due buste quindi un bastone in mano due buste nell'altra a mettere a fare il suo dovere di bravo cittadino quando magari ci sono tanti ragazzi che stanno benissimo ma sono un po' per ignoranza un po' per picrizia un po' per maleducazione un po' per superficialità un po' perché non se rendono conto di che cosa sta succedendo a questo pianeta magari prendono le cose le buttano così non gliene frega un cazzo di fare l'accolta differenziata eccetera ho pensato per un attimo di fare un video perché già era clamoroso che questo signore che veramente considero una grande persona e nella sua vita sarà stato sicuramente una grande persona già era clamoroso che stesse da solo facendo le scale però diciamo che evidentemente conosceva proprio molto molto bene ma che addirittura andasse a portare una raccolta differenziata in quella maniera facendo attenzione a dove metteva le cose è una cosa che mi ha veramente commosso e ripeto avrei voluto fare il video ma non ovviamente per motivi di privacy non potevo ma è un video che andrebbe mostrato a tutti i ragazzi fin dalle scuole elementari proprio per fargli capire che cosa vuol dire avere una coscienza civica perché i prossimi anni saranno molto difficili per questo pianeta perché le cose vanno sempre peggio a livello climatico ma le conseguenze stiamo cominciando a vedere questa è un'estate che è la più calda degli ultimi 300 anni stanno dicendo e siamo ancora al 30 giugno immaginate a luglio agosto quello che sarà quindi se non cambieremo i nostri comportamenti questo pianeta andrà a finire non male ma malissimo ho finito ragazzi vi abbraccio e buonanotte grazie a tutti